Iniziativa internazionale Europe Code Week alla scuola di Cosorito di Gera. L'obiettivo è quello di offrire ai giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare la settimana europea della programmazione promossa dall'Unione Europea allo scopo di favorire un'appropriata educazione al pensiero computazionale. Un progetto che vuole potenziare il pensiero computazionale, cioè i bambini devono imparare a calcolare però secondo una sequenza processuale che servirà nella vita loro lavorativa in quanto oggi si lavora in modo diverso, non più convenzionale, non con dati statici ma con modalità tecnologiche diversificate e oggi i bambini hanno concluso la loro attività con questo ballo che in qualche modo vuole simulare la modalità della macchina che si muove con dei processi. Questa sfida consiste nel coinvolgere il maggior numero possibile di alunni. Se noi come scuola riuscissimo a coinvolgere più del 50% degli alunni iscritti allora riusciremmo ad avere un certificato di eccellenza da parte della comunità europea. Io penso che in questo noi siamo riusciti perché abbiamo coinvolto non il 50% ma credo proprio che la totalità degli alunni dalla scuola dell'Imbanzia alla scuola primaria. Noi stiamo portando i bambini a cercare di usare nel miglior modo possibile il pensiero computazionale sperando di esserci riusciti in questa settimana perché come diceva la collega abbiamo impegnato più del 50% di tutti gli alunni lo abbiamo fatto sia in classe che fuori speriamo che sia una cosa ben riuscita, sia stata una cosa ben riuscita e continueremo a andare avanti sempre così.